ma soprattutto per quello che riguarda l'avversario di oggi e Clermont ovviamente molto ambiziosi. Non so se Bars chiederà anche la prova video per capire se sia partito in fuorigioco una langa, non mi pare proprio. Questa è la dimostrazione di ciò che abbiamo detto pochi secondi fa, ovvero la capacità di Clermont di variare il gioco, di essere imprevedibile e di adattarsi all'avversario. La grande intelligenza tattica in questo caso di Lacramp, il calcetto proprio perfetto.